buongiorno benvenuti questo nuovo episodio del nostro podcast la volpe il leone oggi andiamo negli stati uniti negli stati uniti parliamo di politica c'è stato questo nuovo caso lanciato da soprattutto dal presidente trump quello dell'obamagate delle possibilità probabilità forse che obama durante gli ultimi scampoli della sua presidenza abbia utilizzato gli apparati statali dell'intelligence per mettere il bastone tra le ruote a trump che doveva subentrare un caso che sicuramente inciderà anche sulle elezioni presidenziali mancano sei mesi sono state molto scurate negli ultimi tempi dall'emergenza coronavirus che ha colpito pesantemente anche gli stati uniti ma c'è da scommetterci che presto rientrerà nel vivo la corsa per la casa bianca e ne abbiamo discusso di tutto questo con stefano graziosi giornalista della verità esperto soprattutto gli stati uniti segue in particolare quel paese e anche il ricercatore associato del centro studi macchiavelli con lui abbiamo affrontato una bella discussione su obamagate caso tarid joe biden media ed elezioni usa di novembre 2020 buongiorno stefano grazie di essere qui con noi allora obamagate questo termine che è stato lanciato da trump con uno dei suoi famosi tweet è diventato subito un caso negli stati uniti se ne parla anche in italia però forse non con l'ha dovuto rilievo l'ha dovuta dovizia di particolari quindi cerchiamo un attimo di spiegare a chi magari non segue abitualmente quello che succede negli stati uniti e cos'è l'obamagate diciamo che c'entra michael fin se lo ricorderà magari qualcuno michael fin è a quel consigliere di trump quando lui è candidato nel 2016 generale il generale che aveva litigato con obama e che era un po il mastermind la mente dietro la sua dietro la strategia internazionale di trump che cadde immediatamente in disgrazia dopo l'elezione prima ancora che entrassero in carica lui doveva essere il consigliere per la sicurezza nazionale che un po' una via di mezzo tra un ministro degli esteri e un ministro della difesa nel sistema americano non riuscì di fatto a diventarlo perché ci fu questo caso delle registrazioni di sue telefonate private con l'ambasciatore russo intercettate perché venivano intercettate quelle dell'ambasciatore russo lui ci finì in mezzo e poi una manina che misteriosamente fece arrivare queste il suo nome e queste telefonate alla stampa quindi un caso poi c'è fu un'incomprensione come vicepresidente pensa insomma alla fine lui fu costretto a dimettersi finì sotto inchiesta e così via quello che è successo una storia che già puzzava a lontano chilometri all'epoca perché il fatto che un ministro in pectore che già fa già parte della squadra doveva entrare il governo venisse intercettato il suo nome poi venduto dalla stampa indagato su una legge ricordiamo del 700 che vieta di fare diplomazia parallela chiaramente un qualcosa che è assolutamente strumentale però adesso la novità è che il dipartimento di giustizia ha deciso di lasciar perdere ogni accusa ed è saltato fuori anche qualcos'altro eccoci puoi spiegare esattamente che cosa sta succedendo e perché si parla di obamagate grazie innanzitutto per l'invito sì diciamo che si è tornati a parlare di obamagate dopo che poche settimane fa il dipartimento di giustizia ha lasciato cadere le accuse contro Flynn quando si parla di obamagate si fa riferimento alla teoria avanzata soprattutto dal presidente trump e da buona parte del mondo repubblicano una teoria secondo cui Barack Obama avrebbe utilizzato in modo improprio l'fbi e più in generale l'intelligence americana per mettere i bastoni tra le ruote a trump non solo trump candidato ma anche trump presidente in pettore quindi parliamo delle settimane che andarono dalle elezioni novembre 2016 al 20 gennaio 2017 il giorno in cui trump entrò in carica c'è anche da sottolineare che per trump obamagate lo ha detto lui stesso domenica scorsa a fox news implica non soltanto l'ipotesi che obama abbia ordinato appunto di spiare il suo comitato elettorale in quel momento in generale appunto il team che stava entrando alla casa bianca ma anche soltanto che obama sapesse che quelle operazioni di sorveglianza venivano condotte e oggi sappiamo quanto meno che obama sapeva per cui a livello generale possiamo dire che obama gate per ora resta comunque una teoria perché non abbiamo la prova definitiva e irrefutabile che l'ex presidente anzi che l'allora presidente quanto meno avesse ordinato tutto questo però è anche diciamo così inesatto se vogliamo addirittura sbagliato definire obama gate come molti fanno una teoria del complotto perché in base a quanto sta uscendo in termini documenti soprattutto nelle ultime settimane beh questa teoria in buona parte tali documenti la stanno corroborando allora che a che cosa ci riferiamo nel concreto posto che si tratta ovviamente di una questione molto intricata un vero e proprio ginepraio beh innanzitutto cominciamo col dire che alla fine dello scorso aprile furono diffusi alcuni documenti si trattava nella fattispecie di quattro pagine di email scambiate tra gli agenti dell'fbi che nel gennaio del 2017 si stavano accingendo ad interrogare appunto michael flin e in queste pagine di mail ce n'è una con delle note scritte a mano in cui si lascia chiaramente intendere che l'intento dell'fbi non fosse tanto quello di appurare l'eventualità che flin fosse un tramite con i russi ma che in realtà l'intento fosse ben altro cioè quello di farlo licenziare e questo è scritto nero su bianco il dipartimento di giustizia si è basato anche su questi documenti quando a inizio maggio ha fatto cadere le accuse contro il generale punto secondo ricordiamoci che sempre pochissime settimane fa all'inizio di questo mese la commissione intelligence della camera camera che ricordiamo è oggi a maggioranza democratica ha rilasciato un ingente mole di documenti desecretati si tratta principalmente di trascrizioni delle audizioni che la camera stessa tenne tra il 2017 e il 2018 sulle origini dell'inchiesta russa quindi quello che noi chiamiamo russia gate ebbene in queste audizioni furono tra le varie figure audite ascoltati anche svariati eminenti funzionari dell'allora amministrazione obama ebbene tutti costoro hanno affermato in quelle audizioni che all'epoca erano a porte chiuse a cavallo ribadisco tra il 17 e il 18 di non aver posseduto alcuna cito testualmente evidenza empirica di collusioni tra il comitato di trump e i russi e non sto parlando di funzionari di serie b o di serie c sto parlando dei massimi livelli parlo dell'allora consigliera per la sicurezza nazionale susa rice parlo dell'allora ministra della giustizia loretta lynch parlo dell'allora ambasciatrice all'onu samantha power tutti hanno detto tutti costoro hanno detto di non aver avuto all'epoca né mai posseduto delle evidenze empiriche di questa collusione allora la domanda che emerge è ma se queste evidenze empiriche queste prove certe non c'erano su quali basi l'indagine non dico è stata aperta ma ha continuato ad essere condotta tra l'altro con la conoscenza piena di barack obama ormai siamo appunto pienamente consapevoli che il 5 gennaio del 2017 obama tenne un miti alla casa bianne nella fattispecie cui parteciparono l'ex vicepresidente joe biden l'allora viceministra della giustizia sally yates la stessa susa rice consigliera per la sicurezza nazionale e james come il controverso direttore dell'fbi all'epoca addirittura è stata diffusa nelle scorse ore una parte di una mail originariamente secretata di susan rice scritta il 20 gennaio ma che documentava l'incontro di due settimane prima il 5 di gennaio in cui come lascia intendere ad obama su richiesta di obama attenzione che forse sulla questione dei russi per quanto lui stesso dica non ci sono evidenze indicazioni che flin stesse passando ai russi delle informazioni sensibili però insomma gli consigliava lo stesso forse dice potenziali potenzialmente di non trasmettere al team entrante cioè al team trump informazioni sensibili sulla russia allora si capisce bene che questo insomma sarebbe quanto meno abbastanza grave perché allora ci sono due ipotesi se realmente l'amministrazione obama riteneva flin una spia russa non o anche solo prendere in considerazione non condividere quelle informazioni con l'amministrazione entrante sarebbe stato un attentato alla sicurezza nazionale oppure l'altra ipotesi l'altro scenario è che si stava in realtà usando flin semplicemente come un mezzo per arrivare a trump ma per colpirlo politicamente perché c'è un ulteriore e concludo dettaglio si fa per dire abbastanza controverso l'fbi aveva chiuso l'indagine su flin il 4 gennaio 2017 sostenendo di non aver trovato sul generale in procinto di diventare consigliere di trump alcuna informazione dispregiativa cito anche qui testualmente ebbene lo stesso 4 gennaio appena poche ore dopo le alte sfere dell'fbi e quindi presumibilmente come ma come sicuramente sapeva riaprirono quel caso del logon act cioè appunto di questa legge settecentesca che vieta che un privato cittadino abbia delle relazioni con diplomatici stranieri su questioni di sicurezza nazionale piccolo dettaglio al di là del fatto che come ricordavi si tratta di una legge nei fatti mai applicate nella storia americana è vecchissima anche molto controversa anche ricordato però che flin stesse appunto per diventare consigliere per la sicurezza nazionale e tutti i consiglieri per la sicurezza nazionale in pettore hanno dei contatti preliminari con politici e diplomatici straniere quindi è la routine quindi diciamo che come vediamo non possiamo parlare di pistola fumante ancora però varie come dire elementi che vanno a corroborare questa tesi del mondo repubblicano beh non possiamo negare che ci sia. Sì la strumentalità di questa accusa mi pare veramente evidente penso che a parti inverse cioè se trump provasse a fare qualcosa del genere al suo successore che sia novembre che sia fra quattro anni altro è nixon farebbe una fine ben ben peggiore ma del resto questa diciamo doppio standard dei media dei commentatori lo vediamo su tante cose non lo vediamo solo sul poco rilievo relativamente poco rilievo che viene dato all'obamagate sia negli stati uniti ma in italia se ne parla pochissimo anzi rimando ai tuoi articoli sulla verità che sono sempre dei utilissimi aggiornamenti perché volesse seguire quotidianamente quello che accade nella politica americana ma ci sono tanti casi in cui vediamo cose di questo tipo l'abbiamo visto di recente anche su un caso che è riguardato Joe Biden tra parentesi anche lui comunque coinvolto in obamagate perché è presente in alcuni di questi incontri di cui abbiamo documentazioni desecretate quindi non assolutamente strano questa vicenda abbiamo avuto il caso Tara Reid cioè una donna che lo ha accusato di un'aggressione sessuale quando lei lavorava per lui stiamo parlando inizio anni 90 allora senatore Biden aveva questo assistente un'accusa che ovviamente sappiamo è venuta dopo tanti anni non ci sono le prove non verrà mai dimostrato e poi dico francamente a questo punto a così tanta distanza c'è anche un relativo interesse perché è impossibile poi arrivare alla verità però quello che a me interessa veramente non è qui decide se Biden sia uno stupratore o meno quello che mi preme sottolineare vorrei la tua parere su questo è che i democratici intendo i politici intendo i simpatizzanti intellettuali famosi divi che spesso intervengono nella politica tutto il movimento del Me Too emittenti come la CNN, il Washington Post e così via quando ci fu il caso di Brett Kavanaugh ricordiamo giudice conservatore che Trump voleva che poi è riuscito a far confermare la Corte Suprema ma ci fu una grandissima battaglia perché uscì una donna, una professoressa universitaria che disse di essere stata stuprata in quel caso il mantra era alle donne bisogna credere, se una donna accusa un uomo l'uomo è colpevole qui invece vediamo che in un caso in cui incerto ma ci sono degli indizi più forti rispetto all'accusa Kavanaugh invece tutti si prodigano a dire no noi crediamo a Joe, crediamo a Joe Biden l'accusatrice probabilmente mente e pensiamo che lui quindi vada ancora sostenuto contro Trump cosa ne pensi? Magari mettiamoci anche dentro un attimo i giornalisti italiani perché ancora una volta a parte te e pochi altri quasi nessuno ne ha parlato ha dato grosso rilievo a questa vicenda qui in Italia Il caso Tara Reid come tu giustamente dicevi non mi esprimo sull'aspetto penale perché a parte che è molto difficile da dimostrare comunque poi nel caso sarà l'autorità giudiziaria ad occuparsene il problema è come noti è politico e mediatico mediatico perché ricordiamoci che i mass media americani hanno impiegato un mese per iniziare ad occuparsi in maniera seria di questo caso il New York Times che come ricordavi nel caso Kavanaugh due anni fa fu più che tempestivo uscì addirittura prima due giorni prima che l'accusatrice di Kavanaugh uscisse allo scoperto perché era tutto nato con una denuncia anonima in questo caso il New York Times ha teso 19 giorni per uscire con il primo articolo dedicato alla vicenda Tara Reid nelle prime tre settimane la Reid ha fatto questa sua accusa a fine marzo diciamo nelle tre settimane successive a quell'accusa pubblica ricordiamolo in tutti i vari grandi network cui Biden ha partecipato in quei giorni ha fatto circa dieci interviste da CNN, NBC insomma tutti i principali network americani nessuno gli ha chiesto nulla quindi solo da fine aprile ci si è iniziato ad interessare in maniera più specifica, seria e sistematica di questo caso quindi questo è innanzitutto il tema mediatico tra parentesi il direttore esecutivo del New York Times quando appunto ad aprile gli fu chiesto il motivo di quel ritardo se ne uscì fuori dicendo che la cosa non era notiziabile perché nessuno sapeva chi era Tara Reid insomma una giustificazione che lascia un pochino perplessi innanzitutto da parte di un giornale che fa comunque riferimento a un'area culturale che ha sempre difeso a spada tratta il Me Too in secondo luogo perché allora tornando al caso Kavanaugh quando la prima accusatrice dello stesso Kavanaugh la dottoressa Ford uscì fuori per la prima volta ancora allora nessuno sapeva chi fosse pure il caso Kavanaugh al caso Kavanaugh venne dato ampio risalto dalla totalità della stampa e una parte della stampa lo cavalcò anche in maniera vagamente, si fa per dire vagamente, politicizzata poi ci dicevamo l'aspetto politico il caso Reid rischia di rivelarsi un boomerang per Biden ma più che per Biden soltanto per l'intero Partito Democratico proprio per questa questione del doppio standard, del doppio pesismo come ricordavi tu ai tempi di Kavanaugh la linea dei democratici sposata esplicitamente da Biden sposata esplicitamente da Biden che rilasciò dichiarazioni verso metà settembre su questa questione era che le accusatrici di Kavanaugh andassero credute sulla parola questa era la tesi secondo me abbastanza surreale ricordo addirittura un piccolo editoriale del New Yorker che difendeva questa tesi perché dicevano i democratici il solo fatto che queste donne siano uscite allo scoperto contro un uomo potente non può non implicare che dicano la verità Biden disse che l'essenza di quello che dicono sia reale oggi dopo due anni circa, poco meno di due anni Biden davanti a questa accusa dice ma alla fine contano i fatti e le cose, le accuse vanno provate che è una posizione più che legittima e condivisibile ma come? quando il tema era il giudice Kavanaugh questo principio non andava bene quando invece tocca a te questo principio va bene e non è soltanto attenzione Joe Biden il problema in questa situazione ma una gran parte degli esponenti del Partito Democratico Nancy Pelosi quando è stata interrogata e interpellata su questa questione ha risposto in maniera molto piccata chi appunto la stava interpellando dicendo che lei non aveva bisogno di lezioni Hillary Clinton che si è sempre presentata come una paladina delle donne quando ha dato il suo endorsement a Joe Biden non ha fatto minimamente cenno a questa vicenda e diciamo che l'aspetto secondo me più controverso riguarda poi la senatrice californiana Kamala Harris che è una papabile candidata alla vicepresidenza a fianco di Biden per il 2020 Kamala Harris che ricordiamolo fu la grande accusatrice di Kamenog con lei che al Senato guidò tutta la tra virgolette chiamiamola resistenza contro Kamenog la stessa Kamala Harris che tra parentesi quando una serie di donne tra cui all'epoca la stessa Tara Reid ad aprile 2019 uscirono accusando Biden all'epoca non di aggressione sessuale ma di molestie disse Kamala Harris io credo a queste donne ebbene quella medesima Kamala Harris oggi dice ma sai io commento soltanto il Joe Biden che conosco allora capisci che davanti a questo doppio pesismo il tema diventa soprattutto se in piena campagna elettorale squisitamente politico purtroppo con quelle che possono essere poi le eventuali ripercussioni non dimentichiamoci che nel caso di Tara Reid pur di arrivare a screditarla in maniera diretta o indiretta si è fatto riferimento alla sua fede politica al fatto che a gennaio avesse credo twittato comunque manifestato pubblicamente il suo supporto a Bernie Sanders e quindi si dice eh ma se sosteneva Bernie Sanders vuole mettere nei guari Biden che fino a poco tempo fa era diciamo il grande avversario di Sanders alle primarie ma allora usando questo standard punto primo il Me Too che fine fa? cioè una donna deve essere creduta quando accusa di stupro o di molestie in base alla sua fede politica e in secondo luogo ma la signora anzi la dottoressa Ford che accusò Kevin Ogg due anni fa anche lei aveva ampi legami con il Partito Democratico era elettrice registrata del Partito Democratico aveva degli avvocati quando testimoniò in Senato legatissimi a Hillary Clinton e Barack Obama e nessuno all'epoca disse che fosse motivata da odio politico contro Trump o contro i repubblicani nuovamente un inaccettabile doppio pesismo Sì a proposito di incoerenza Kamala Harris dice io giudico Joe Biden che conosco beh è lo stesso Joe Biden che qualche mese fa aveva accusato sostanzialmente di essere un segregazionista razzista esatto dovrebbe chiedersi come può poi andare a fare da vice a proposito di incoerenza beh siamo ormai nel tema elezioni 2020 ormai i due sfidanti li conosciamo Biden e Trump i sondaggi dicono Biden è avanti d'altro canto sappiamo che i sondaggi non sono sempre affidabilissimi ma sappiamo soprattutto che il sistema americano non c'è una perfetta coincidenza tra voto popolare e voto elettorale quindi può anche darsi che chi effettivamente Biden come aveva fatto Hillary Clinton potrebbe vincere avere la maggior parte dei consensi e poi perdere comunque le elezioni altro dato del resto quando poi i stessi sondaggi chiedono a di là della vostra preferenza chi pensate vincerà la maggior parte risponde Trump ed effettivamente era una convinzione molto consolidata fino a poco tempo fa anche per la ottima situazione economica che ci avevano gli Stati Uniti ora la situazione è molto diversa nel frattempo è arrivata questo terremoto inatteso della Covid-19 milioni e milioni di disoccupati il lockdown che si sta uscendo ma diciamo molte resistenze da parte dei democratici cosa succederà? Siamo ancora molto distanti lo so ci sono tantissime incognite ma facendo delle prime lasche previsioni su novembre 2020 cosa ti attendi? Cosa dobbiamo aspettarci? Allora in termini di risultati ovviamente è abbastanza difficile in questa fase quello che però già si può notare in questi stessi giorni oserei dire in queste stesse ore è un fatto e cioè che lo abbiamo visto pochi giorni fa tra l'altro Barack Obama è tornato decisamente in campo è tornato decisamente in campo in realtà non se n'era mai andato perché da quando ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio del 2017 comunque ha continuato a fare attivamente politica cosa un po' insolita per un ex presidente ma tant'è ha costantemente criticato il suo successore fece campagna elettorale ai tempi delle elezioni di metà mandato nel 2018 adesso critica Trump sul versante del coronavirus l'abbiamo appunto visto pochi giorni fa e questo secondo me è sintomatico di un fattore cioè che il vero avversario di Trump a novembre prossimo sarà Obama non perché Obama correrà non potrebbe neanche volendo perché la Costituzione glielo impedisce visto che ha fatto già due mandati ma perché il vero dominus il vero uomo forte del Partito Democratico in questa fase storica è proprio l'ex presidente democratico che è anche se vogliamo il grande artefice tra virgolette della candidatura di Joe Biden una candidatura che ce lo ricordiamo tutti a febbraio era in pieno fallimento e che poi improvvisamente a marzo ha preso quota proprio grazie all'interessamento di Obama che ha fatto serrare rangi all'establishment che ha spinto gli vari ex candidati a dare il proprio endorsement allo stesso Biden e che ha anche avuto un ruolo molti dicono nel far fuori elettoralmente parlando Bernie Sanders quindi voglio dire Trump di questo è consapevole e gli attacchi a Obama sul versante Obama Gate ma non soltanto testimoniano questo fatto che l'attuale inquilione della Casa Bianca considera e ha ragione il proprio vero avversario il suo predecessore e non Joe Biden che parliamoci chiaro adesso dipendentemente da come si possa legittimamente pensare sulla figura su quello che propone eccetera è un candidato molto debole molto fragile politicamente insomma anche la salute non è che mi sembra che sia troppo come dire abbia una fibra troppo forte tra l'altro ricorderei anche che Obama anzi che Biden per Obama non sia stata la primissima scelta perché ricorderai probabilmente che tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno Obama aveva puntato in realtà su altri candidati in corsa l'ex deputato texano Beto Rourke la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren che poi però si sono dimostrati totalmente inconsistenti e le primarie li hanno spazzati via Rourke si è addirittura ritirato prima quindi questo è il primo grande elemento secondo me da sottolineare il partito democratico non sta puntando su Biden sta puntando su Obama e punta su Biden solo nel momento in cui vede Biden come una emanazione una conseguenza di Obama stesso e questo secondo me è un dato molto significativo per come sono i rapporti dentro il partito democratico i rapporti di forza gli equilibri di forza dentro il partito democratico per come sarà la prossima le prossime settimane di campagna elettorale e poi c'è sempre l'incognita di questa vicepresidenza democratica che secondo alcuni potrebbe veramente andare a Michelle Obama a moglie di Barack Obama anzi le male lingue dicono che Obama si starebbe attivando così tanto proprio con questo fine vedremo se andrà così ma Michelle Obama o non Michelle Obama il ruolo di Barack all'interno di questo processo elettorale è stato e continuerà ad essere assolutamente rilevante poi certo la grossa incognita quest'anno con il coronavirus è la seguente la maggioranza degli americani voterà in funzione di che cosa del coronavirus o dell'economia perché questo è un grande tema è un grande grande punto interrogativo e lo dico alla luce di un sondaggio della CNN che è stato pubblicato una settimana fa circa o poco più comunque negli ultimi dieci giorni era un sondaggio molto contraddittorio al suo interno e dava appunto l'idea di una situazione molto fluida per esempio dava Biden avanti sul fronte nazionale ma Trump primo su alcuni stati chiave territori chiave ma l'aspetto secondo me più interessante era questo e cioè che quando gli elettori venivano interpellati sul coronavirus davano maggiore fiducia a Biden ma quando venivano interpellati sull'economia e su chi credessero potesse essere il candidato giusto tra i due per far riprendere l'economia nel post pandemia beh lì Trump vinceva e vinceva anche abbastanza nettamente quindi la questione della priorità del cittadino americano oggi secondo me è un aspetto fondamentale per capire chi tra queste due figure ha reali chance di farcela e questo a livello generale e infine una considerazione relativa alla coesione dei due partiti il partito repubblicano tutto sommato è relativamente coeso anche i malpancisti anti-Trump in questo momento sono abbastanza silenti si c'è il senatore dello Utah Mitt Romney ma è una voce isolata ogni tanto esce fuori e Trump gli risponde tu sei un perdente quello li replica tu sei un pericolo per lo stato di diritto insomma i soliti batti vecchi non è Romney il problema però nell'ambito democratico la situazione lo sappiamo è molto più frastagliata e soprattutto c'è la solita incognita come nel 2016 ma gli elettori di Bernie Sanders che si è ritirato dalle primarie ha dato il proprio endorsement a Biden un mesetto fa circa come si comporteranno costoro ricordiamoci che gli elettori di Sanders una parte degli elettori di Sanders neanche tantissimi alla fine nel 2016 votò per Trump in Michigan Wisconsin e Pennsylvania e grazie a quei pochi voti alla fine Trump riuscì a conquistare la Casa Bianca quindi Biden ha un enorme problema a sinistra e lo ha fatto presente la settimana scorsa anche Jeff Weaver che è uno dei principali strateghi elettorali di Bernie Sanders suonando il campanello d'allarme dicendo attenzione signori molti Sandersiani non hanno intenzione ad oggi di votare per Joe Biden che loro considerano a torto a ragione il candidato dell'establishment l'emanazione di Wall Street e quant'altro e c'è un sondaggio di User Today diffuso il 30 di aprile scorso che insomma dice che il 22-23% dei Sandersiani appunto Biden non lo vuole nemmeno sentire quindi questo è un tema Biden di per sé non è in grado di accattivarsi quelle simpatie ha cercato negli ultimi giorni di fare qualche concessione adesso si sono inventati le task force visto che vanno di modo ovunque le task force congiunte Biden-Sanders per il programma coeso capite bene che il programma coeso tra Biden e Sanders lascia un pochino a desiderare visto che proponevano cose totalmente diverse a partire dalla sanità Obama riuscirà in questo intento beh io sono un po' scettico sinceramente perché noi dobbiamo sempre tenere presente che l'Obama di oggi non è l'Obama del 2008 Obama era un semisconosciuto senatore dell'Illinois che uscì fuori improvvisamente nel 2007 poi per la campagna elettorale del 2008 correndo una campagna similare quasi sotto alcuni aspetti a quella di Trump del 16 cioè una campagna antisistema anti-establishment contro Hillary Clinton contro McCain ma poi nel corso degli anni e soprattutto degli ultimi anni alla Casa Bianca si è lasciato sempre più assorbire da quell'establishment a cui in origine aveva di guerra e questo è un problema è un problema perché molti Sandersiani Obama non lo hanno in simpatia perché Obama sostenne Hillary nel 2016 oggi sostiene Biden è come dire un avversario sotterraneo dello stesso Bernie Sanders quindi io sinceramente non so se alla fine questa preminenza diciamo così di Barack Obama dentro il Partito Democratico che in parte è anche necessaria per queste spaccature che dicevo però alla fine si rivelerà autenticamente salvifica perché il problema a sinistra i democratici lo hanno ed è un problema che elettoralmente a novembre potrebbe rivelarsi fatale la corsa è ancora lunga e come hai ben spiegato le incognite dinamiche sono tante complesse sono sicuro che avremo ancora modo di discuterne assieme intanto ti ringrazio moltissimo per questo quadro della situazione americana e a presto Stefano a presto grazie buona serata a tutti grazie